per essere sicuri di restare nei tempi lascerei subito la parola a Thomas Fazzi per la relazione successiva. Thomas Fazzi è un giornalista e scrittore, ha scritto fra l'altro per Meltemi Editore il libro Sovranità o Barbaria in cui appunto come dicevamo prova a declinare da una prospettiva socialista il tema della sovranità. Quindi senza perdere tempo lascio subito a lui la parola, vi dico solo che dopo troverete sia il suo libro sia quelli del professor Galli all'ingresso se li volete costano esattamente il prezzo di copertina. Grazie a Thomas Fazzi. Sì, io ringrazio i ragazzi di sottosopra per l'invito. Allora, qual è il tema? Perché recuperare o come recuperare una presenza dello Stato nell'economia? La prima cosa che direi è che non si tratta di recuperare una capacità di intervento dello Stato o un intervento per il proprio dello Stato in economia perché lo Stato già interviene nell'economia. L'idea che il neoliberismo abbia comportato un'erosione, una fuoriuscita dello Stato dai processi economici è assolutamente falso. Sono stati gli Stati a costruire la globalizzazione neoliberista, sono stati gli Stati a costruire il neoliberismo stesso e ancora oggi gli Stati ovunque, anche in Occidente, giocano un ruolo assolutamente centrale nella gestione e nella regolazione dell'economia. Sono gli Stati che bastonano i lavoratori quando protestano, sono gli Stati che hanno liberalizzato i mercati del lavoro, i mercati finanziari, che hanno deregolamentato i mercati finanziari, che sostengono attivamente la finanza attraverso le politiche monetarie come il quantitative easing e così via. Quindi un primo punto da tenere a mente secondo me è che lo Stato oggi gioca un ruolo assolutamente centrale nella regolazione dell'economia tanto quanto lo giocava nel cosiddetto periodo keynesiano. Quello che è veramente cambiato negli ultimi 30-40 anni è che i cittadini hanno in buona parte perso la capacità di determinare il carattere e la natura dell'intervento statale e questo è stato ottenuto attraverso un processo che alcuni hanno chiamato di depoliticizzazione, cioè si è progressivamente separato il livello democratico, il livello diciamo del processo elettorale dal livello delle politiche macroeconomiche e i due livelli si sono progressivamente scollati fino a che il legame tra questi due livelli non è stato reciso del tutto come nel caso dell'Eurozona. E questo è stato fatto attraverso insomma sono stati usati diversi strumenti per ottenere questo obiettivo ma sostanzialmente attraverso una autolimitazione della sovranità degli stati, cioè le stesse elite nazionali hanno autolimitato la propria sovranità cedendola ad organismi sovranazionali e questo è stato uno degli strumenti principali per ottenere appunto questa separazione tra il livello democratico e il livello delle decisioni macroeconomiche. Se guardiamo all'Europa è chiaro che oggi noi continuiamo a come dire a partecipare a un gioco più o meno democratico a livello nazionale quando in realtà tutte le decisioni vengono prese altrove, al di fuori del perimetro nazionale. Questo però appunto non vuol dire che non ci sia un intervento statale o nel caso dell'Europa sovrastatale in economia, cioè noi abbiamo semplicemente creato una sorta di super macchina statale che però appunto sovrastatale, sovranazionale che continua a intervenire pesantemente nell'economia ma lo fa al riparo dal processo democratico, dal processo elettorale. Quindi questo è stato un primo obiettivo di questo processo di depoliticizzazione, quindi diciamo mettere le politiche economiche al riparo di qualunque pretesa democratica che potesse arrivare dal basso. Un'altra funzione è stato che ha permesso alle stesse elite nazionali di imporre una serie di politiche a livello nazionale che sarebbe stato molto più difficile implementare se quelle elite fossero state direttamente politicamente responsabili per quelle decisioni. Invece il fatto di poter scaricare la responsabilità di tutta una serie di azioni su organismi esterni allo Stato, quali possono essere per esempio la Commissione Europea, la BCE, rappresenta un potentissimo dispositivo di controllo sociale perché permette a un politico che magari avrebbe sempre voluto eliminare l'articolo 18 ma che sapeva che sarebbe stato molto difficile riuscire a farlo se avesse dovuto spiegare agli elettori perché voleva eliminare l'articolo 18, si rivela molto più funzionale, molto più utile poter dire non siamo noi che vogliamo farlo ma è la Commissione Europea, è la BCE che ce lo impone, sono i vincoli di Maastricht, è la globalizzazione, scegliete voi il termine che volete, è chiaro che questo si rivela un dispositivo politico e narrativo estremamente forte ed è il cielo che è dell'Europa sostanzialmente, quindi in questo senso non si tratta secondo me di l'idea che l'Europa sia stata una sorta di sovrastruttura che è stata imposta sugli stati o è stata imposta sulle elite nazionali, no è al contrario, l'Europa è lo strumento attraverso il quale le elite nazionali sono in grado di imporre una serie di politiche che altrimenti sarebbe molto più difficile imporre e questo è quello che alcuni hanno chiamato il paradosso della debolezza, cioè apparentemente le elite nazionali diventano più deboli perché rinunciano a una serie di poteri fondativi della sovranità, tra cui appunto la sovranità monetaria, però questo paradossalmente appunto gli permette a quelle elite nazionali di diventare ancora più forti nei confronti delle classi subalterne e questa è un po' l'ideologia del vincolo del vincolo esterno. Quindi appunto il neoliberismo non ha comportato una scomparsa dell'intervento statale in economia ma ha portato a una scomparsa della capacità delle masse di incidere sull'indirizzo politico degli stati e più in generale dell'intervento politico e questo è sempre stato un obiettivo del neoliberismo, in questo senso neoliberismo e globalismo o sovranazionalismo, cosmopolitismo, che dir si voglia, ci sono diversi termini per indicare lo stesso concetto, sono sempre andate a braccetto. Non è un caso che alcuni dei principali teorici del sovranazionalismo siano anche alcuni dei principali teorici del neoliberismo, tra cui Hayek, von Mises e altri, che appunto negli anni 20 e 30 di fronte all'integrazione delle masse, soprattutto del lavoro organizzato nei sistemi politici democratici, teorizzano la necessità non potendo fare un colpo di stato militare in tutti i paesi del mondo, anche se ovviamente ne hanno fatti diversi, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ma in Occidente questo era un po' più difficile da fare e quindi hanno teorizzato la necessità di imbrigliare gli stati all'interno delle strutture internazionali, o ancora meglio sovranazionali, che costituzionalizzassero una serie di regole economiche, appunto non tanto al fine di limitare l'intervento statale in sé nell'economia, ma per limitare la capacità delle masse di poter determinare la natura di quell'intervento statale. E non è un caso infatti che storicamente il globalismo, il sovranazionalismo è sempre stata l'ideologia delle elite, delle classi capitalistiche, ideologia speculare all'internazionalismo della sinistra che invece storicamente si è sempre fondato, come ha spiegato il professore, sulla centralità della sovranità nazionale come luogo di espressione della sovranità popolare. È per un paradosso della storia che a partire dagli anni 70 la sinistra abbraccia l'ideologia del nemico, cioè abbraccia il globalismo, il sovranazionalismo e tuttora continua ad abbracciarlo, insomma non devo dirvelo io, basta vedere l'atteggiamento di buona parte della sinistra nei confronti dell'Unione Europea e dell'Eurozona. Quindi non si tratta di recuperare un intervento dello Stato in economia in quanto tale, ma bisogna recuperare la capacità di poter determinare alla natura le finalità e il carattere di quell'intervento, si tratta dunque di recuperare democrazia e a mio avviso è evidente che l'unico livello al quale si può tornare ad esercitare democrazia è il livello nazionale. La democrazia è possibile solo dentro la cornice dello Stato nazionale, cioè l'idea che possa esistere una sorta di democrazia globale è una, non direi neanche un'utopia, è una distopia secondo me, dopo spiegherò perché. Comunque se ci limitiamo al contesto europeo è abbastanza evidente a mio avviso che l'idea che l'Unione Europea si possa riformare in senso progressivo, sociale o che si possa democratizzare per trasformarlo in un vero e proprio Stato federale e tutte quelle belle cose che ci continuano a raccontare a sinistra mi sembra del tutto illusoria. C'è una ragione banale che è quella che per una modifica reale e strutturale dell'architettura europea bisognerebbe riformare i trattati, oggi tutti dicono che bisogna riformare i trattati, tutti vogliono riformare i trattati da Fratoianni fino a Salvini, tutti vogliono riformare i trattati. La verità è che i trattati non si possono riformare per il semplice fatto che richiedono l'unanimità dei paesi dell'Unione Europea, quindi 28 paesi che dovrebbero mettersi d'accordo su una prospettiva di riforma e che, perché si realizzi il sogno degli integrazionisti di sinistra, dovrebbero condividere una prospettiva di riforma di sinistra, chenesiana, progressiva dell'Unione Europea. Quasi 30 paesi all'interno dei quali dovrebbero arrivare al potere governi progressisti in maniera più o meno simultanea, perché questo possa avvenire, i tempi dei vari paesi, i tempi del cambiamento all'interno dei vari paesi deve più o meno coincidere. Ora mi sembra evidente, non è che bisogna essere particolarmente pessimisti perché questo non avverrà mai. Quindi c'è un problema proprio come dire tecnico, strutturale, che rende l'Unione Europea riformabile, ma non è un caso, è stata studiata perché non fosse riformabile, come hanno ammesso tantissimi architetti del sistema, tantissimi dei padri fondatori dell'Unione Europea e di Maastricht, l'hanno poi ammesso successivamente che è stato studiato per non essere riformabile. Per non essere riformabile democraticamente, poi quando il sistema deve autoriformarsi per garantire la sua sopravvivenza, invece lì si trovano sempre le soluzioni, si trova sempre il modo di cambiare il sistema, di aggiustarlo, basti pensare a tutte le riforme che ha fatto, come dire, Draghi, anche in violazione dei trattati, ma l'ha fatto per mantenere in piedi il sistema, non per migliorare la vita di tutti noi. Quindi, come dire, il capitalismo è sempre in grado di autoriformarsi nei propri interessi, ma questo non vuol dire che sia riformabile nella direzione che auspica la sinistra. Su me però c'è una questione ancora più profonda, ovvero che la democrazia, come dice il termine stesso, presuppone un demos sottostante, cioè una comunità politica, che non è una comunità etnica, è una comunità politica che però, diciamo, storicamente ha richiesto una certa omogeneità linguistica, culturale, una storia condivisa, tutti quegli elementi che hanno permesso l'emergere della democrazia negli Stati nazionali. Ora, un demos europeo non esiste, non esiste assolutamente, non solo parliamo lingue diverse, e quello già è un ostacolo enorme, ma abbiamo anche culture abbastanza diverse, abbiamo pratiche normative, pratiche sociali che sono diverse, vere e proprie visioni del mondo, in buona parte che sono diverse, e abbiamo modelli di sviluppo diversi all'interno dei singoli paesi. Quindi l'idea, diciamo, che si possa livellare tutto questo e che possa emergere un'identità europea, non si sa bene che cosa vuol dire, e che questo possa avvenire, diciamo, nel breve termine, cioè in un arco temporale che sia soddisfacente, non dico neanche per me, ma almeno per mia figlia, non lo so, cioè è assolutamente impensabile. Poi questo non preclude che nel giro di, come dire, non so, un secolo, due secoli possa emergere una vera e propria identità europea che permetta la creazione di uno Stato nazionale europeo. Ma, diciamo, in un arco temporale che sia utile per noi e per mia figlia è assolutamente impensabile, e quindi questa è una cosa di cui bisogna prendere atto. Sottolineerei che questo era un fatto arcinoto ad alcuni dei teorizzatori dell'Unione Europea, tra cui, ancora un'altra volta, Hayek, che in uno scritto molto illuminante, che si chiama sul federalismo interstatale, lui teorizza una federazione interstatale europea e dice uno dei motivi per cui sarebbe auspicabile questa federazione interstatale è che proprio la diversità di interessi tra Stati e tra popoli renderà impossibile un vero e proprio intervento pubblico di carattere progressivo in economia perché gli Stati non riusciranno a mettersi d'accordo su come intervenire, perché mancherà quella omogeneità interna che invece esiste a livello nazionale. Quindi, come dire, erano perfettamente consapevoli di tutto i padri, alcuni dei padri teorici dell'Unione Europea. Quindi questa è la situazione in cui ci troviamo e, appunto, come dicevo prima, non è un caso che la democrazia si sia sviluppata all'interno dello Stato nazionale perché quello è stato l'unico livello che ha permesso, appunto, l'emergere di comunità politiche abbastanza estese da poter garantire la propria riproduzione, diciamo, la propria sopravvivenza, ma anche abbastanza omogenea da poter agire come un corpo politico unico. Questo vuol dire riconoscere, per esempio, la legittimità di una maggioranza che vince le elezioni e tutta una serie di altre cose che non esistono oggi in Europa. E, appunto, questo era vero prima ed è vero ancora oggi. Cioè, l'idea che oggi siamo entrati in una fase nuova in cui questo non è più vero e quindi non è, come dire, non è più vero che la democrazia è possibile solo a livello nazionale. Io credo che i tempi della storia sono molto più lenti e che non sia quello che era vero 50 anni fa e che era riconosciuto da tutta la sinistra sia ancora vero oggi. Cioè, non credo che sia avvenuto chissà quale grande cambiamento nell'antropologia umana che ha permesso l'emergere di, come dire, di una democrazia globale o di quello che volete. E questo, la cosa interessante è che la gente, diciamo, le masse popolari in Europa, mi sembra che questo l'abbiano capito molto bene, cioè se c'è qualcosa che accomuna fenomeni come la Brexit, i gel e gialli, la stessa rivolta populistica, se vogliamo usare un termine giornalistico, che abbiamo visto qua in Italia, mi sembra che sono accomunate da una serie di domande che sono sostanzialmente, come diceva il professor Galli, delle domande legittime. C'è una domanda di maggiore democrazia, di maggiore controllo su una serie di dinamiche sociali, politiche ed economiche, di cui sentono di aver perso il controllo, è in sostanza una domanda di maggiore sovranità, che poi assume forme sicuramente contraddittorie, forme anche reazionarie, ma sono domande legittime, diciamo, al loro livello più fondamentale. E sanno che, come dire, questo recupero di un maggiore controllo su queste dinamiche è possibile solo a livello nazionale. Cioè, le masse popolari in questo dimostrano una capacità di analisi politica molto superiori all'intelligenza di sinistra, che invece continua a prospettare soluzioni ireniche, di rivoluzione mondiale o quantomeno continentale, quello è proprio il minimo per poter fare qualcosa. Almeno la prospettiva deve essere europea, se no dove vuoi andare. Quindi oggi lo Stato rimane importante per questo motivo, perché rimane l'unico livello in cui è possibile esercitare la democrazia e in conseguenza di ciò rimane l'unico livello dove è possibile esercitare delle forme di resistenza al capitalismo globale. Il che non vuol dire, come ha spiegato sempre il professore, l'autarchia, vuol dire semplicemente recuperare un'autonomia relativa, non assoluta, ma relativa rispetto alle forze del capitalismo globale. Autonomia relativa, che appunto qua non esistono le dicotomie, cioè non esiste sovranità e non sovranità, non esiste la scelta non è tra autarchia e scioglimento all'interno, diciamo, delle dinamiche della globalizzazione. Così come non esiste una distinzione netta tra capitalismo e socialismo, cioè come dire, tutte queste categorie andrebbero intese come un continuum su cui uno si può spostare ed andare più verso una direzione o più verso un'altra. Oggi noi all'interno dell'Eurozona abbiamo perso del tutto la sovranità nazionale, dunque la sovranità popolare e dunque la democrazia, quindi si tratta come primissimo passo di recuperare un po' più di sovranità e un po' più di democrazia. Poi quanto uno possa spingere in avanti, diciamo, quanto uno possa allargare gli spazi di sovranità e di democrazia e quanto uno possa mettere in discussione il capitalismo, poi quello dipenderà da tutta una serie di fattori, di rapporti di forza all'interno dei singoli stadi e così via. Ma la prima cosa è recuperare la cornice all'interno del quale sia possibile esercitare il conflitto, come diceva il professore. Ma lo Stato quindi è importante per questo motivo, ma è importante anche perché permette di resistere al capitalismo globale secondo le specificità dei singoli popoli e delle singole nazioni. E questo è un punto importante secondo me, perché la visione della sinistra cosmopolitica per cui il capitalismo, visto che il capitalismo è globale, allora la resistenza al capitalismo può solo essere globale, non solo è irrealizzabile e quindi questo mi sembra il punto principale. Ma a me mi sembra una visione anche abbastanza agghiacciante, perché è una visione che punta a eliminare, a livellare qualunque differenza, qualunque differenza tra popolo, qualunque differenza tra nazioni, qualunque differenza tra comunità, qualunque differenza nell'identità delle varie comunità nazionali. Mentre io invece penso che quello è un aspetto fondamentale, cioè come dire, a ogni popolo e a ogni comunità deve essere permesso di resistere al capitalismo o comunque di esercitare la sovranità nella maniera che ritiene più consona alla propria visione del mondo, alle proprie tradizioni e così via. E quindi in questo senso io penso che sia assolutamente normale che sia così, cioè il capitalismo è globale perché in molti casi parliamo di uni e di zeri che si spostano in giro per il mondo o al massimo di merci che si spostano in giro per il mondo. Noi non siamo però numeri, non siamo merci, noi siamo degli esseri viventi e in quanto tali siamo degli esseri territoriali. So che sicuramente esistono dei finanzieri, dei banchieri che ogni giorno prendono un aero privato e se ne vanno in un punto diverso del globo, magari in più punti diversi del globo nello stesso giorno. Ora, a parte che io non vorrei mai vivere così, mi sembra una vita ghiacciante, ma è un dato di fatto che il 99% delle persone nel mondo non vivono così, non vivranno mai così, grazie a Dio, la maggior parte di noi nasce e vive in un territorio specifico ed è legato a quel territorio ed è influenzato e modificato dal territorio in cui vive e dalla comunità in cui vive. E questo, come dire, anche un marxista non particolarmente sovranista, come David Harvey lo riconosce, cioè oggi i conflitti sono tra il capitalismo globale e i territori, cioè i conflitti avvengono sempre a livello territoriale perché la gente vive nei territori. Quindi diciamo, già credo che abbiamo individuato alcuni elementi sul perché lo Stato continua ad essere un elemento centrale dell'organizzazione della vita politica e dovrebbe esserlo soprattutto per la sinistra. E oggi secondo me c'è un'altra questione, oggi si parla tanto di crisi ecologica, di cambiamento climatico, tutti gli studi, anche gli studi delle Nazioni Unite, non gli studi miei, dicono che se vogliamo salvare la vita sul pianeta bisogna trasformare radicalmente i nostri modelli di produzione, i nostri modelli di consumo, i nostri stili di vita. Ora, chi dovrebbe attuarlo questo cambiamento se non lo Stato, se non gli Stati? Cioè pensare che i mercati che inseguono il profitto di brevissimo termine abbiano interesse a farsi carico degli investimenti enormi che richiede questo processo, processo che tra l'altro andrebbe anche ad erodere i loro profitti, visto che loro come dire ci campano benissimo all'interno di questo sistema qua, basti pensare allo strapotere delle compagnie petrolifere, quindi è evidente che i mercati, gli oligopoli economici privati non hanno nessun interesse a cambiare il modello economico dominante. Quindi oggi è solo lo Stato è l'unica autorità che può attuare questo cambiamento e quindi siamo in una situazione in cui la pianificazione economica, potremmo anche parlare di socialismo, il socialismo oggi è non solo secondo me possibile, ma oggi è una necessità vera e propria. Cioè oggi la sopravvivenza della vita sulla terra non può prescindere dal socialismo e da forme molto radicali di pianificazione economica e di controllo pubblico e democratico dell'economia, cioè non avere e propria necessità, non si tratta di scegliere. Questo però presuppone appunto l'esistenza di Stati che siano democratici e che siano sovrani. Democratici perché questi cambiamenti appunto non ci verranno regalati, ma siamo solo noi che attraverso una pressione dal basso che possiamo appunto strappare questi cambiamenti da chi non ha interesse a cambiare lo stato di cose attuali, quindi serve la democrazia e serve la sovranità, e serve soprattutto la sovranità monetaria. Cioè è evidente che la ristrutturazione economica di cui parliamo richiede molte cose, ma innanzitutto richiede risorse finanziari immense. Ora mi sembra evidente che uno Stato che è costretto a delimosinare quelle stesse risorse finanziarie ai mercati finanziari o nel caso nostro alla BCE, che forse te li dà, forse non te li dà, a discrezione diciamo di Mario Draghi, mi sembra evidente che non permetterà mai i cambiamenti di cui abbiamo bisogno. Cioè qui è chiaro che il controllo, il monopolio della moneta è un aspetto fondamentale di questo programma, anche perché non si capisce perché i mercati finanziari, le banche dovrebbero prestarti i soldi per di fatto, come dire, levargli il potere, perché poi di quello si tratta, è evidente che non avverrà mai. Quindi il controllo della moneta, la sovranità monetaria è un aspetto, non è l'unico ovviamente, ma è un aspetto assolutamente centrale di una nuova prospettiva di strategia socialista oggi. E infatti non è un caso che se guardiamo agli Stati Uniti, dove il paese in cui forse è il dibattito sul cosiddetto Green New Deal, quindi su un grande piano di transizione energetica che di fatto porti al superamento della dipendenza dell'economia americana dai combustibili fossili. Dibattito che viene portato avanti da figure emergenti molto radicali all'interno del Partito Democratico, pensiamo ad Alexandra Ocasio-Ortès, persone come a Stephanie Kelton, consigliere economica di Bernie Sanders, sia alle ultime elezioni che per quelle dell'anno prossimo. E non è un caso infatti che in America il Green New Deal venga legato in maniera inestricabile alla cosiddetta teoria monetaria moderna, cioè quella che viene riassunta nell'acronimo MMT. Perché è chiaro a queste persone che il controllo delle risorse finanziarie, il controllo pubblico della moneta è un aspetto assolutamente centrale per il Green New Deal, proprio vista l'ingenza delle risorse finanziarie che sono necessarie. Risorse finanziarie che come insegna l'MMT per un Paese che dispone della sovranità monetaria sono infinite. Quindi il problema non è se abbiamo i soldi o meno, la domanda è sempre se abbiamo le risorse reali, se abbiamo le persone, se abbiamo i mattoni per costruire le case, se abbiamo l'acciaio per costruire le fabbriche e così via. Questa è la domanda e questa è questa comprensione dell'economia moderna che offre l'MMT che è assolutamente fondamentale per poter immaginare delle politiche realmente trasformative e come dicevo prima non è un caso che l'MMT sia uno degli elementi fondanti del Green New Deal in America. Quindi, e qui vado a concludere, lo Stato oggi è centrale perché è l'unico luogo in cui possiamo recuperare democrazia, è l'unico luogo in cui possiamo dare battaglia o comunque porre degli argini al capitalismo, è l'unico luogo in cui possiamo cambiare, iniziare a cambiare il nostro modello di sviluppo. È ovvio che uno si auspica che siano sempre di più gli Stati che adottino politiche stile Green New Deal, cioè che comprendano la necessità di superare questo modello di sviluppo, ma rimane il fatto che comunque il cambiamento non potrà che iniziare nei singoli Stati, cioè non c'è nessuna alternativa. Quindi l'idea, come dire, tutte queste belle parole che si sentono sul cambiamento, il cambiamento deve essere globale, servono politiche globali, sono tutte cazzate, le politiche globali non esistono, esistono i singoli Stati che fanno le loro politiche e che nella migliore dell'ipotesi interagiscono tra di loro, si sostengono a vicenda, si aiutano a vicenda e semmai possono cercare di fare pressione sugli altri Stati per cambiare le proprie politiche. Ma il cambiamento non può che iniziare a livello nazionale e quindi a livello statale. Grazie, direi che per ora mi fermo qua. Grazie. Abbiamo adesso tempo per fare un po' di interventi, un po' di domande, anche se non sono domande vanno bene anche critiche, anche critiche, pur che siano chiare e possibilmente anche sintetiche. C'è già un volontario, prego. C'è tempo anche dopo per altri interventi, quindi se volete preparatevi pure. Volevo chiedere a Thomas che, posto che la UE non è riformabile per via dei trattati che possono essere modificati solo all'unanimità, come spiegavi, non è possibile comunque pensare che dopo un'eventuale uscita dall'UE si possa dare vita a un progetto di ricomposizione in senso federativo, a livello europeo, autentico, su basi veramente egualitarie e solidarie, cominciando magari ad aggregare aree più omogenee tra di loro, come quella dell'Europa mediterranea, per esempio, no, no, perché una federazione europea di altro tipo non è possibile per i motivi che ho detto prima, cioè non esistono le condizioni sociali, non esistono le condizioni culturali per fare la repubblica degli stati socialisti europei, che è un po' quello che alcuni a sinistra sognano, per lo stesso motivo perché non è possibile a mio avviso fare uno stato-nazione in senso più ampio, mancano le condizioni. Sulla possibilità di aggregare aree un po' più omogenee, sì, vabbè, è chiaro che una unione monetaria dei paesi latini avrebbe maggiori chance di successo, ma però dobbiamo guardare la storia, c'è la storia che insegna che le unioni monetarie non funzionano, non hanno mai funzionato, cioè non è un caso che le uniche unioni monetarie che sono rimaste in piedi, per unioni monetarie intendo sostanzialmente degli stati che siano formalmente sovrani ma che non dispongono della sovranità monetaria, sono l'Eurozona e la zona del Franco, dove vige sostanzialmente la moneta coloniale africana che la Francia ha imposto alle sue ex colonie in seguito al processo di decolonizzazione. Cioè, se l'unica area del mondo è l'Eurozona, che come sappiamo non se la passa molto bene, è un'area di fatto soggetta al controllo neocoloniale della Francia, in cui vivono delle condizioni sociali estremamente drammatiche ci sarà un motivo. Le unioni monetarie non funzionano e questo è il dato di fatto. Quindi anche l'idea di una unione euro-mediterranea, cioè in cui non so chi ci dovremmo mettere dentro l'Italia con i paesi nord-africani, mi sfugge un po' come quali dovrebbero essere i paesi... Anche una stessa unione monetaria tra Italia, Spagna, Grecia... Sì, sarebbe meglio non avere la Germania tra i piedi, ma si riproporrebbero le stesse dinamiche, cioè anche all'interno di quest'area qua. Il paese dominante in quel caso, che magari saremmo noi, non avrebbe nessun interesse a creare un sistema in cui l'Italia deve, non so, elargire dei trasferimenti fiscali permanenti alle aree più povere di questa unione monetaria, nel nostro caso la Grecia. Cioè, voglio dire una faccia, una razza, ma poi, come dire, voglio vedere... I padani non vogliono neanche più dare le proprie risorse alle regioni del sud Italia, figurati, alle regioni povere della Spagna o della Grecia. Quindi, come dire, non capisco questa resistenza ad accettare un sistema... Cioè, un sistema in cui ci sono stati sovrani, che hanno la propria moneta, come ce l'hanno tutti i paesi del mondo, che collaborano per il perseguimento di una serie di obiettivi, si spera progressivi, a livello europeo. Cioè, perché tutta questa resistenza, diciamo, ad accettare una prospettiva che mi sembra in linea poi con quella che è la tradizione socialista, internazionalista? Cioè, la vera prospettiva internazionalista è una prospettiva in cui ci sono stati sovrani, che dispongono della propria sovranità monetaria, che collaborano tra di loro per il perseguimento di una serie di obiettivi politici, economici, sociali e così via. Nella consapevolezza, come diceva il professore, che l'internazionalismo è più facile a dirsi che a farsi. Cioè, proprio perché siamo diversi. Ogni Stato ha, come dire, modelli di sviluppo, pratiche istituzionali diverse, per cui è molto difficile... Questo è il motivo perché è molto difficile organizzare forme di resistenza al capitale europeo. Perché è ovvio perché sia difficile organizzare una forma di resistenza congiunta tra i lavoratori italiani e quelli tedeschi. Cioè, nel senso, qua abbiamo una disoccupazione reale che sta al 30%. Lì, con tutti i problemi, i minijob e così via, stanno quasi alla piena occupazione. Cioè, dov'è la comunanza di interessi? Cioè, è chiaro che viviamo situazioni sociali che sono talmente diverse che non è un caso che infatti sono 40 anni che i sindacati provano a organizzarsi a livello europeo e non sono mai riusciti a fare un cazzo. Ma è dagli anni 70 che c'è questo dibattito a livello sindacale. Cioè, in 40 anni, 50 anni, ancora non si è riusciti a ottenere un fico secco, anzi, ovviamente si è ottenuto il contrario, c'è un arretramento dei diritti dei lavoratori in tutta Europa e ancora oggi invece ci tocca sentire la CGL che continua a dire che l'unica speranza è in Europa e addirittura arriva a sottoscrivere un manifesto pro Unione Europea insieme a Confindustria. E questa è la situazione in cui ci troviamo, insomma. Però, no, non penso che ci sia bisogno di nessuna federazione, penso che ci sia bisogno, diciamo, di ridare ai singoli stati la loro sovranità innanzitutto monetaria, condizione necessaria perché possa esserci un reale internazionalismo e basta guardarsi intorno oggi per vedere che gli effetti dell'unica monetaria non sono stati quelli di avvicinare i popoli ma di allontanarli tra loro, cioè era dai tempi della Seconda Guerra Mondiale che non si vedeva un'ostilità tra popoli quale quella che vediamo oggi nell'Eurozona, in cui i tedeschi odiano i greci perché sono convinti che gli fregano i soldi, i greci pensano che i tedeschi oggi sono dei nazisti perché gli hanno imposto l'austerità, i italiani odiano i francesi perché i francesi odiano... e questo va in buona parte il risultato delle contraddizioni e delle divergenze create dall'unica monetaria, quindi mettere gli stati nelle condizioni di poter migliorare le condizioni materiali dei propri cittadini credo che sia la condizione necessaria per poter tornare a immaginare una collaborazione virtuosa tra 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 paesi quindi no qualcun altro se vuole venire venga pure non siate timidi, non facciamo niente a nessuno non mordiamo, cioè lui non morde va bene intanto... ah sta arrivando ne approfitto intanto per ricordarvi che questo giovedì saremo di nuovo qui alle 18.30 a parlare con Lea Ipi e il professore Andrea Zoc del tema del cosmopolitismo un po' è venuto fuori anche oggi, però diciamo sull'ideale cosmopolita un po' oggi si è detto se ne dirà ancora con questi due autori che hanno posizioni opposte sul tema la mia domanda è molto semplice, siccome ho visto che hai tradotto questo libro sulla moneta coloniale in Franco CFA, volevo chiedere se potevi dire qualcosa su questo tema Sì, beh il Franco CFA per chi non lo sa è una moneta che viene usata da 14 stati africani che sono sostanzialmente buona parte delle ex colonie francesi in Africa è una moneta che la Francia crea nel 1945 così come tanti altri imperi coloniali, quello britannico, quello belga e così via avevano le proprie unioni monetarie, tutti gli imperi hanno imposto alle proprie colonie la propria moneta questo già per capire l'importanza della moneta la prima cosa che un impero coloniale cerca di fare è imporre nei territori conquistati la propria moneta e togliere la sovranità monetaria ai territori conquistati la cosa interessante è che la Francia riesce a mantenere la propria moneta coloniale anche in seguito al processo di decolonizzazione nel momento in cui tutti i diversi stati degli ex imperi coloniali ottengono l'indipendenza ottengono anche la sovranità monetaria questo avviene in tutti i paesi, nei paesi delle ex colonie inglesi delle ex colonie appunto belghe e così via ad eccezione delle colonie francesi dove la Francia attraverso una serie di strumenti che vanno dalla pressione diplomatica alla corruzione ai colpi di stato, alla violenza all'uccisione vera e propria di una serie di leader africani riesce a far mantenere a questi paesi la moneta coloniale, il franco CFA e attraverso questa moneta la Francia ottiene una serie di vantaggi enormi il vantaggio, ce ne sono tanti, ma il vantaggio principale è abbastanza ovvio e sostanzialmente grazie a questa moneta la Francia è in grado di pagare le proprie importazioni da queste ex colonie che sono colonie ricchissime di risorse risorse petrolifere ma soprattutto di uranio come sapete la Francia è molto dipendente dall'energia nucleare sia per scopi civili che per scopi militari quindi l'uranio è una risorsa assolutamente fondamentale per la Francia e in buona parte lo importa dal Niger e grazie appunto al franco CFA la Francia sostanzialmente riesce a importare a costo zero importa nella propria moneta quindi gode di quel privilegio esorbitante di cui si è sempre accusata l'America gli Stati Uniti di fatto visto che detengono la moneta la valuta di riserva internazionale di fatto gli Stati Uniti non le pagano le proprie importazioni cioè pagano le proprie importazioni con la propria moneta e quindi di fatto possono stampare hanno un lusso che hanno solo loro e la Francia in parte che è quello di poter stampare la moneta con cui importano e gli Stati Uniti detengono di questo privilegio esorbitante a livello mondiale la Francia lo ritiene all'interno della sua ex zona coloniale quindi questo è un vantaggio enorme per la Francia un sistema che invece comporta una serie di costi molto pesanti per le economie locali costi che sono quelli di qualunque Stato che non controlla la propria moneta il franco CFA è agganciato all'euro quindi vuol dire che dei paesi poverissimi sottosviluppati sono costretti a andare dietro ai cicli economici alle politiche monetarie dell'eurozona che invece rappresenta una zona economica ricchissima con bisogni completamente diversi da quelli dei paesi africani e questo comporta ovviamente dei costi molto pesanti che sono costretti a seguire le politiche deflattive della BCE quando avrebbero bisogno invece di politiche inflattive vuol dire che non possono fare politiche di sviluppo perché non controllando la moneta appunto sono costretti a indebitarsi spesso a indebitarsi in valuta estera solo per poter investire quindi ci sono tutta una serie di dinamiche che fanno sì che i paesi di quest'area qua in linea di massima sono meno sviluppati dei paesi della stessa area quindi se prendiamo per esempio l'area subsahariana se prendiamo i paesi che hanno il franco-ceffa dell'area subsahariana in generale registrano tassi di crescita pro capita tassi di sviluppo socio-economico e così via molto più bassi o relativamente più bassi dei paesi di quell'area lì che invece rispongono della sovranità monetaria e questo già dovrebbe farci capire quanto siano assurdi i discorsi fino a di quelli che dicono dove vuoi che vada l'Italia con la sua liretta per l'ottava, nona, che cosa siamo? Economia al mondo si parla di liretta quando vediamo che anche in zone poverissime del mondo come l'Africa i paesi che hanno la propria sovranità monetaria in linea di massima se la passano meglio di paesi che sono agganciati a un sistema monetario controllato da un altro paese in questo caso la Francia insomma quindi è un libro che consiglio del libro si chiama L'arma segreta della Francia in Africa è un libro che consiglio a tutti non solo perché l'ho tradotto ma perché è veramente molto interessante sia per capire le politiche neocoloniali della Francia sia per capire l'importanza della moneta e l'importanza della sovranità monetaria mi dicono che lo potete anche comprare all'ingresso se volete sì prego scusi c'era prima il ragazzo facciamo solo vi prego interventi brevi che ci chiedono la sala grazie intervento molto breve premesso che di politica interna europea non ho ben chiari funzionamenti prima abbiamo parlato di trattati irriformabili perché appunto necessitano dell'unanimità ci sarebbero particolari risultati all'unico organo europeo eletto democraticamente cioè il Parlamento che mettano in crisi possano mettere in crisi il funzionamento dell'Unione Europea della macchina grazie a mio avviso assolutamente no cioè nel senso l'Unione Europea non è neanche nel Parlamento Europeo a differenza dei Parlamenti Nazionali di fatto non ha neanche non ha neanche il potere legislativo che rimane in mano alla Commissione e in maniera indiretta in mano al Consiglio Europeo quindi sono la Commissione Europea che è un organo non eletto di fatto un organo non eletto perché l'idea che il Parlamento Europeo eleggala il Commissario è assolutamente falso cioè nei fatti è il Consiglio Europeo quindi sono i vari stati europei che propongono una rosa di nomi o un nome solo alla Commissione e a quel punto il Parlamento Europeo che ci mette diciamo il bollino sopra è sempre andata così quindi il potere oggi continua ad essere detenuto di fatto dal Consiglio Europeo e dalla Commissione Europea quindi anche diciamo un ribaltamento degli equilibri nel Parlamento Europeo che comunque non ci saranno non ci sarà in questa tornata elettorale per quanto ci sarà una crescita di alcuni gruppi ma i partiti e l'establishment rimarranno comunque avranno continueranno comunque ad avere una maggioranza relativa se non assoluta non no credo che aspettarsi diciamo che il cambiamento possa arrivare dal Parlamento Europeo è assolutamente è assolutamente illusorio cioè di fatto sono ancora sono ancora gli stati principalmente soprattutto gli stati dominanti Francia Germania che determinano l'indirizzo politico dell'Unione Europea cioè non è il Parlamento Europeo c'era prima il Signore se volete potete picchiarvi per decidere chi viene prima va bene anche così si fa male se scivolo no io sono della CGN sono il direttivo nazionale e sono d'accordo però rispetto all'inopportunità anche all'errore per alcuni versi della sottoscrizione di una lettera congiunta a Confindustria in occasione delle elezioni europee ma se non altro per una questione per due questioni di fondo una perché ovviamente Confindustria ha sempre dimostrato di avere altre intenzioni rispetto alle organizzazioni che rappresentano i lavoratori e non credo Confindustria ti chiede la Bolkenstein in Europa non ti chiede l'Europa sociale l'altra cosa è che il nostro interno viene in qualche modo lesa anche come dire il profilo dell'autonomia del sindacato noi siamo tanto attenti all'autonomia dei partiti poi però rispetto a Confindustria facciamo uno scivolone del genere resto però perplesso riguardo all'idea di una come posso dire connessione internazionale per i processi economici perché io sono del tutto convinto e lo vediamo quello che si sta verificando che un Trump o la stessa Cina hanno ragione di contrattare con i singoli stati per ottenere maggiori come dire convenienze maggiori ritorni rispetto ad esempio ad una contrattazione di natura economica anche sui grandi processi la via della seda ad esempio preferiscono contrattare con il singolo Stato rispetto ad un consesso molto più ampio come potrebbe essere l'Europa e quando Germania o la stessa Italia vanno via da quel contesto cioè si richiamano ad opzioni di natura nazionale io credo che non lo facciano per gli interessi come dire del popolo ma lo fanno per rispondere sempre alla stessa filosofia del sistema capitalistico che regge l'economia e il mondo per intenderci ed inoltre per un'organizzazione sindacale l'opzione dell'internalizzazione delle rivendicazioni della rappresentanza stessa è legata anche alla nuova divisione internazionale del lavoro ma anche al nuovo modo con cui si organizzano le imprese ad esempio la famosa battaglia che abbiamo fatto la lotta che abbiamo fatto a livello nazionale internazionale per impedire che la Bolkenstein si declinasse con tutte le rigadute negative nei confronti del lavoro cioè l'idea di poter applicare ad un'impresa che lavora sul territorio nazionale il contratto di lavoro dell'impresa stessa della nazionale impresa stessa non solo un'impresa rumena che invece di applicare il contratto di lavoro italiano applica il contratto della Romania quella è come dire ci fa pensare che in realtà anche il concetto stesso di sovranità non è in contrapposizione all'europeismo di natura sociale quindi cioè la sovranità anche io la intendo in termini positivi ma non dobbiamo immaginare che quelle limitazioni di sovranità di cui si parlava prima seppure confinate all'articolo 11 ma noi pensiamo ad un'Europa sociale più ampia non dobbiamo pensare che siano irrealizzabili l'idea ora non voglio parlare come dire di un internazionalismo come dire di altri tempi però l'idea anche di avere una configurazione dell'azione sindacale che non si limiti se vogliamo contrastare Amazon o le politiche fiscali dell'Irlanda che consente per esempio una detassazione o tasse così basse penso che quella dimensione la dobbiamo accettare ancora come se non come un anel come un'ipotesi da realizzare in maniera diversa da come è adesso ma sicuramente come opportunità ovviamente non sono d'accordo ma non sono d'accordo per una serie di motivi il primo motivo è che l'idea che appunto noi avremmo bisogno dell'Unione Europea per difenderci da questi grandi stati emergenti a livello internazionale in primis la Cina secondo me è del tutto sbagliata nel senso che se c'è una cosa che dimostra quello che sta avvenendo in questi anni è che se molti paesi tra cui anche il nostro spalancano le porte per esempio agli investimenti cinesi è perché l'Europa non investe è perché gli singoli stati non possono investire in virtù dei vincoli di bilancio europei per cui questo l'ha detto anche vi invito a leggere una bellissima intervista che ha dato l'ex ambasciatore a Pechino al tempo del governo Gentiloni mi sembra su Jacobin in cui spiega che l'unica maniera perché l'Italia possa rapportarsi in maniera non del tutto subalterna alla Cina è recuperare la sovranità monetaria per poter tornare a fare investimenti e dunque per non dipendere dagli investimenti cinesi oggi tutti gli stati europei sono in una situazione in cui devono andare col cappello alla Cina perché la Cina effettivamente è uno dei pochi paesi che ha diciamo capitali molto ingenti da investire quindi in questa situazione qua noi non siamo l'Europa non ci difende da questi grandi stati come la Cina ma a mio avviso ci espone alla loro mercè e mi ha fatto piacere vedere che questo piano è anche condivisa da un ex ambasciatore italiano a Pechino sulla questione poi diciamo dell'internazionalizzazione del lavoro ma io ritengo che come dire è chiaro che quello che servirebbe per un'Europa che faccia gli interessi del lavoro è che bisogna tornare a mettere limiti alla circolazione dei capitali limiti anche alla circolazione di alcune merci cioè bisognerebbe prevedere come dire che un paese che detiene un surplus commerciale enorme anche in violazione delle stesse regole europee venga sottoposto a degli strumenti diciamo a delle misure di censura però si torna si torna al punto di prima cioè nel senso è realistico aspettarsi che l'Europa diciamo vada in questa direzione qua un'Europa che pone limiti alla circolazione del capitale un'Europa che pone limiti secondo me non è possibile per tutti i motivi che dicevo prima e quindi io penso che un sindacato italiano dovrebbe fare pressione affinché sia l'Italia a porre dei limiti alle delocalizzazioni perché sia l'Italia a tassare le multinazionali che operano in Italia perché sia l'Italia a evitare forme di dumping sociale e così via tutte misure che l'Italia potrebbe fare abbastanza bene cioè l'idea che queste cose o vengono fatte a livello continentale o non si possono fare a mio avviso è estremamente fallace cioè nel senso domani l'Italia potrebbe porre uno stop alle delocalizzazioni cioè non è che non si può fare puoi dire benissimo puoi dire cioè se tu prendi soprattutto un'azienda che magari fino al giorno prima ha preso non so quanti fondi pubblici decide di delocalizzare in Romania e tu cioè se tu poi vuoi reimportare in Italia io ti metto dei tazzi della madonna più o meno quello che ha fatto Trump con non mi ricordo la Ford che voleva andare a costruire una fabbrica in Messico Trump gli ha detto se tu vai a costruire la fabbrica in Messico io ti impongo dei tazzi della madonna e il giro di una settimana ci ha ripensato e hanno aperto una fabbrica in Michigan e non mi sembra che questo abbia diciamo determinato eh? non avrebbe messo a poter portare un insediamento produttivo in Europa sì sì però il discorso vabbè adesso purtroppo dobbiamo chiudere però no no nel senso non è che non voglio neanche semplificare però secondo me dobbiamo capire che l'obiettivo cioè come dire di un sindacato italiano secondo me dovrebbe essere quello innanzitutto di formulare delle ipotesi che siano realistiche e realizzabili nel breve termine come dire o almeno avere una prospettiva come dire multitemporale cioè va bene uno può anche sognare l'Europa unita però insomma come prospettiva di lungo termine però nel breve termine bisogna immaginare delle soluzioni per porre uno stop alle delocalizzazioni nel breve per rimettere il paese nella condizione di poter fare investimenti sono tutte cose che non si possono fare all'interno dell'architettura europea e credo che quantomeno questo dibattito dovrebbe essere un po' più un po' più sentito all'interno del sindacato credo che dobbiamo sì chiudiamo con l'ultima telegrafica domanda e l'ultima telegrafica risposta scusami ma ci mancherebbe allora visto tutto quello che hai detto e il fatto che le nostre organizzazioni politiche non portano avanti queste stanze cosa ci consigli di fare alle elezioni e assenersi? va bene a parte che non sta a me dare consigli a nessuno io personalmente non credo che voterò ma non voterò perché non c'è nessun non c'è nessun partito in cui mi riconosco quindi diciamo è abbastanza semplice ma più in generale diciamo ho seri dubbi sulla auspicabilità di andare a votare per legittimare diciamo un sistema che ritengo strutturalmente neoliberale strutturalmente antidemocratico e francamente dargli diciamo contribuire a dargli una sverniciata di democraticità partecipando al processo elettorale europeo francamente è una cosa che non mi che non mi entusiasma quindi io penso che non penso che non voterò diciamo sia per mancanza di offerta ma anche per ragioni di principio grazie a tutti ancora di essere stati qui non possiamo siamo proprio alla frutta mi spiace però rimaniamo per chiacchierare con voi dobbiamo solo liberare la sala così che possano allestire per il prossimo evento grazie a tutti ci vediamo giovedì grazie a tutti grazie a tutti